In Emilia-Romagna la base imprenditoriale giovanile continua a diminuire più rapidamente rispetto a quanto avviene a livello nazionale. A fine giugno le imprese attive giovanile sono risultate 31.378, ovvero il 7,7% delle imprese regionali. Gli effetti della passata crisi economica e della restrizione del credito continuano a pesare. In un anno la base imprenditoriale giovanile regionale si è ridotta di 1.107 unità, meno 3,4%, mentre le altre imprese sono solo lievemente diminuite, meno 0,2%. La riduzione è da attribuire principalmente alla flessione delle ditte individuali, meno 951 unità, meno 3,8%, ma il calo delle società di persone è molto più intenso, meno 10,1%, pari a 269 unità. La crisi dei settori produttivi tradizionali ha colpito particolarmente le imprese giovanili, la cui riduzione continua a essere determinata, soprattutto dal crollo delle costruzioni, a cui si aggiunge la contenuta flessione dell'insieme del settore dei servizi e la rapida caduta dell'attività nell'industria. Tra i servizi si segnala per ampiezza la riduzione delle imprese del commercio e per la rapidità del calo di quelle dei servizi di informazione e comunicazione. L'unico contributo positivo sostanziale all'imprenditoria giovanile è venuto dall'agricoltura, civicoltura e pesca, più 185 imprese, più 9,5%.